ciao a tutti e bentornati su incontri la rubrica di biblioteca fotografica oggi siamo qui insieme a michele borzoni ciao michele ciao a tutti ciao ciao grazie per essere qui allora spieghiamo un attimo che michele michele fa parte del collettivo terra project di cui un membro fondatore dal 2006 tra parentesi insieme a simone donati che abbiamo già intervistato qua comunque michele si diploma nel 2006 e perdonatemi la pronuncia l'international center of photography in documentary photography and photojournalist program a new york era lunga ma sono riuscito a dirlo e il tuo curriculum insomma parla da solo insomma hai esposto in tantissimi posti nel mondo roma roma bologna eh firenze ma anche new york pechino madrid eh cina eh lianzu seul eccetera hai vinto anche un wordpress foto eh nel 2010 eh nella sessione single people and news e vabbè non vogliamo dire tutto il curriculum di michele perché se no magari perderemo veramente troppo tempo però diciamo che è uno che sa quello che fa insomma ecco e oggi vogliamo parlare con te di un di un lavoro che eh almeno a me ha interessato immediatamente per la sua peculiarità e soprattutto per la sua attualità cioè eh lo come gli hai dato il titolo italiano in inglese perché io l'ho letto in inglese auto social distance giusto esatto esatto sì sì ok quindi si parla del distanziamento sociale e l'interpretazione visiva che tu sei riuscito a dare e faccio un piccolo cappello però poi vorrei che presentassi tu questa questo lavoro eh ci è interessato molto perché a differenza di molti lavori che ho visto molte foto rappresentative che ho visto il distanziamento sociale in cui c'erano soggetti molto in primo piano in cui si vedevano insomma che ne so magari eh parenti abbracciati o che si è separati da un vetro eccetera tu hai spostato completamente l'obiettivo allontanandoti e prendendo dei campi molto larghi ed è una cosa che mi ha affascinato tantissimo comunque la lascio la parola a te Michele parlaci di questo progetto e come nasce cioè il concept come ti è venuto insomma allora grazie Simone in realtà nasce abbastanza in modo casuale subito diciamo dai primi giorni di eh di marzo appena ci hanno chiuso in casa eh andando a fare la spesa mi trovo davanti questa coda davanti e mi sembrava uno scenario apocalittico cioè eh non so cosa cosa voi avete pensato vedendo quelle code ma a me sembrava una di quelle scene che boh trovi non lo so a volte che ne so in Nepal quando vai a fare benzina e trovi una coda di 50 100 macchine o insomma una roba che non faceva parte del del della nostra quotidianità del nostro modo ehm di fare acquisti dove diciamo tutto è reso più che eh tutto è facilitato per buttarti dentro non non per non per stare fuori ecco quindi eh è nato in modo molto casuale ehm diciamo quella mh quella prospettiva che è una prospettiva un po' privilegiata un pochino alzata eh sono tutte delle delle veduse abbastanza larghe di persone che soprattutto all'inizio della pandemia aspettavano di entrare in un supermercato e sono le prime dieci dodici foto che ho fatto ehm qua a Firenze dove io vivo eh in realtà poi dopo tutto il progetto prosegue grosso modo intorno a Firenze, Prato e diciamo nella città dove vivo ehm proprio perché ehm è un progetto che ha a che fare con la pandemia quindi con la necessità di rimanere dove siamo eh e di rimuoversi il meno possibile quindi anche la scelta del luogo è ovviamente dettato logisticamente dal fatto che non ci si muove ma anche del fatto che eh che le foto sono fatte dietro a casa mia e questa cosa a me eh piace molto soprattutto perché negli ultimi anni mi sono dedicato al racconto di storie nostrane e di quello che ci riguarda più da vicino e quindi ho cercato di eh di di dire qualcosa anch'io in questa in questa storia tremenda ehm le prime foto sono foto di distanziamento per entrare eh nei luoghi dove si faceva ehm dove si fa la spesa successivamente ehm mi metto a pensare e cerco di di capire quale saranno e quale potrebbero essere le immagini da poter aggiungere ad un progetto più lungo che sto continuando anche in questi giorni eh che probabilmente finirà quando quando finirà la necessità di star lontani fisicamente l'uno dagli altri ehm e quindi ci sono tutta una serie di immagini che raccontano la la quotidianità soprattutto negli interni nei nei luoghi di formazione nella scuola università cinema ehm nella produzione appunto come in questa immagine che vediamo qua e quindi nella manifattura nel lavoro eh dove si dove si percepisce e si evidenziano la necessità di stare lontani quindi eh questo è un po' il quello quello che ho cercato di fare eh e ho cercato di farlo mantenendo questo punto di osservazione abbastanza distante e lontano ehm per due motivi ehm uno è obiettivamente una scelta linguistica stilistica e per cercare di eh appunto di 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 posizionare le distanze soggette all'interno di uno spazio e nel mio lavoro diciamo lo spazio e la relazione tra i soggetti e lo spazio è molto cruciale quindi questa posizione di questo punto di vista privilegiato più alto ehm rende lo spettatore chi guarda queste foto eh è quasi come se fosse strano alla scena è un po' come se ehm non so se ci avete mai fatto caso ma quando si guarda un film ehm e nella scena finale del del film c'è un dolly che si alza dalla scena come se appunto ci stesse dicendo che stiamo uscendo dal film va bene e qui allo stesso modo io guardo queste questi questi interni queste queste vedute di distanziamento da un punto di vista lontano estraneante e questo crea un po' una sorta di contrasto dal fatto che è dovuto al fatto che noi in realtà siamo con i piedi e ancora con la testa sommersi da questa da questo problema e e quindi eh sono sono forse anche delle delle immagini diciamo un altro tema che mi interessa molto è cercare di pensare al al mio lavoro nel lungo periodo e quindi cercare di di dargli una vita ehm al di fuori della 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 cronaca e del racconto del dell'ora di adesso ehm ora appunto Simone fermami se sto dicendo cose a Vambero no 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 anzi in realtà in realtà già mi stai dando un gancio proprio per la prima domanda che volevo farti perché effettivamente è un'altra delle delle qualità di questo lavoro che a me perlomeno ha fascinato tantissimo cioè io eh in questa pandemia nel distanziamento sociale non solo eh come tutti quanti l'abbiamo dovuto accettare ma ho già introiettato l'idea che il distanziamento sociale sarà un concetto che ci porteremo avanti nel tempo no magari ci saranno step in cui si potranno abbassare si potrà abbassare più la guardia quindi questa cosa qua c'è eh rapportarsi nel eh col distanziamento sociale appunto in eventi più di massa sarà il primo passo che dovremo affrontare tutti quanti andare a teatro nei cinema concerti saranno cose nuove che dovremmo affrontare e infatti proprio la una delle domande che quindi mi mi sentivo veramente tanto di farti è sei consapevole che almeno per come la vedo io che il tuo progetto è un qualcosa un inizio di qualcosa che sarà una parentesi molto ampia della società contemporanea o pensi che sia una parentesi stretta che magari speriamo per carità si chiude nel 2021 diciamo due anni hai raccontato un evento in due anni o forse eh hai iniziato a raccontare qualcosa che ci porteremo avanti magari per tanto tempo come l'hai come l'hai affrontata anche se forse non lo so è una domandona da da un milione di dollari nel senso eh obiettivamente io non lo so credo che eh non lo so io diciamo questo questo progetto l'ho 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 iniziato a marzo e continuato fino a a luglio a luglio facevo fatica a trovare delle scene soprattutto in esterni dove era dove dove si percepiva questo distanziamento non so se vi ricordate però io ho avuto un po' la percezione che a luglio agosto ci fosse stata una sorta di bomba libera tutti cioè eravamo cioè io stesso pensavo forse anche di averla di averla svangata di di ristoranti non riaperti se andava se andava in spiaggia come a giocare a calcio insomma sembrava che l'avevamo che l'avevamo svangata in realtà non è stata così ehm infatti a settembre ottobre mi sono rimesso a fare le foto però ecco ehm a luglio nella stagione estiva dove appunto il virus era molto più era molto meno aggressivo era meno era meno presente ehm cercavo quei posti dove dove le regole e le e le procedure di sicurezza erano ancora molto rigide quindi nei cinema all'aperto nei nei teatri nei concerti quindi dove dove c'era un luogo controllato nello spazio urbano che alla fine questo progetto nasce molto dal dalla dalla dal 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 racconto dello 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 spazio urbano e dello spazio pubblico da come ci 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 stiamo relazionando in uno spazio che è appunto apparentemente è sempre stato uno spazio sicuro eh adesso non più ehm e quindi cioè diciamo eh ho ho pensato che che questo progetto in quel in quel momento poteva poteva finire io credo che non lo so penso che che nel giro di due tre anni eh diciamo questo io penso che potremo almeno credo dai che potremo ritornare a vivere un un uno spazio pubblico abbastanza allora allora è come dicevo dicevo io ne sei consapevole che comunque non sarà una parentesi stretta insomma no non era non hai fatto qualcosa di meno penso penso che forse rimarrà più nella nostra testa la difficoltà di 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 ammassarsi in dei e di avere dei contatti molto stretti con estrani in dei luoghi insomma molto molto affollati ecco io questo lo vedo un pochino più complicato dal punto di vista psicologico piuttosto che che epidemiologico chiamiamolo così eh però ecco forse una percezione mia no in realtà anche mia ti dico la verità anche mia per quello il tuo lavoro secondo me è molto importante perché comunque secondo me rappresenti non uno non solo uno stato attuale ma un probabile non dico problema futuro ma forse un'idiosincresia che forse alcuni di noi avranno in futuro cioè eh adesso io ho una sorta di passare in termini repulsione di avvicinarmi a qualcuno che è senza mascherina che è la cosa più normale che prima era la cosa più normale del mondo adesso e io andavo per esempio concerti teatri cinema non è che mi facevo mancare niente luoghi di ammassamento proprio concerto addirittura ancora di più sai tutti schiacciati sotto il palco adesso non saprei con che coraggio spingermi in una cosa del genere cioè devo riabituarmi questo quindi forse per questo dico il tuo lavoro è molto importante perché in realtà è da qui che partirà tutto quanto quello che sarà poi un riabituarsi e per me è una cosa che mi ha mi ha catturato tantissimo questo progetto proprio per questo motivo qua perché vedo alla lontana come dici tu non un problema però un impegno futuro che dovremmo avere e che forse è bene che la gente ce l'abbia bene in mente perché probabilmente molti noi dovremo affrontare questa cosa certo certo mi voglio collegare scusate un secondo a questa perché perlisco farla subito insomma proprio per il discorso che ha detto simone no quindi si spera il prima possibile però tra due anni tre anni insomma quando si ritornerà una presunta normalità può essere interessante fare un come posso dire non dico magari un progetto parallelo però fare un accostare un prima dopo cioè magari non dico le stesse proprio inquadrature però vedendo le foto ho pensato subito chissà che effetto potrebbe farmi guardare queste foto come sono adesso quindi senza senza non dico senza persone ma con un numero ristretto e quando ci sarà la possibilità di stare come tutti ammassati tra virgolette semmai dovesse accadere questo non lo so ma dato non so se ci hai pensato se può essere un'idea non so ho pensato chissà che ecco tipo una cosa del genere no sì io diciamo non sono mai stato un grande fan dei progetti comparativi del prima dopo non so mi suonano più come non lo so io penso su questo su queste foto io proprio su questo diciamo questo punto di osservazione più alto me lo immagino un po come 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 delle immagini che poi possono essere guardate tra 10 20 50 anni e ricordarsi per per ricordarsi andare a vedere come si viveva ai tempi del covid forse non lo so o forse alla seconda pandemia terza pandemia ci andremo a rivedere come come si viveva però ecco è un po come non so se voi avete presente quelle immagini non so novecentesche degli in bianco e nero delle piazze insomma io me le vedo un po così ecco con questo con queste visioni post datate ecco per rendere ai posti così un paesaggio urbano di come si viveva in quei tempi ecco io mi piace pensare che queste immagini possono essere viste tra 20 anni 30 anni miei figli nipoti e che gliele possa far vedere in quest'ottica sicuramente le tue sì sicuramente le tue sì ecco allora io invece volevo fare una domanda volevo fare una domanda prettamente fotografica tra virgolette nel senso sul tuo stile proprio ho notato che comunque allora a parte che come dicevi tu lo stile il punto di vista un po sopraelevato e diciamo tirato indietro chiamolo così è molto tipico nei tuoi lavori perché nei fatti molti altri che sono molto a caratterizzare quindi proprio si vede proprio la tua firma proprio però una cosa l'ho notata ecco anche per esempio in questo il senso di staticità che mi danno le tue foto non vedo mai grandi persone sai persone in movimento è come se ogni persona occupasse il suo posto determinato e non lo dico come una cosa brutta cioè questo ordine questa staticità mi fa capire molto mi dà molto un senso di appunto di ordine e volevo capire se era una tua scelta perché comunque per esempio no ecco persone che corrono non le non le hai ecco a parte quelle due piccoline sullo sfondo ma non sono loro il soggetto principale esatto cioè io vedo tutti i soggetti che sono seduti in modo tale forse che riesci a inquadrare meglio la distanza e l'ordine che ci deve essere in cui noi siamo incasellati oppure semplicemente anche questa è una tua chiave di lettura che è proprio del tuo linguaggio e basta sì no secondo me sono due fattori che poi si legano l'uno all'altro uno è la necessità di raccontare in modo cioè di far vedere il paesaggio in modo non so come dire in modo molto pulito in modo molto organizzato in modo molto non voglio dire oggettivo perché non esiste una fotografia oggettiva però che si rifà ad un linguaggio di una scuola molto nordica quindi dove c'è una prospettiva pulita non ci sono linee cadenti tutte queste immagini sono fatte con un lente decentrabile che corregge la prospettiva quindi c'è una grande attenzione formale al linguaggio questo da una parte dall'altra tutto è molto molto statico nel senso che è fatto con una specie di super cavalletto chiamiamolo così è una specie di asta telescopica dove io metto in cima la macchina e poi dopo la macchina sale la faccio salire e poi scatto dal basso però io diciamo per fare una foto ci metto un po' quindi nel senso è tutta una e questo anche in quegli altri miei diciamo in workforce che è il progetto prima di questo per me è molto importante la posizione della macchina rispetto al soggetto all'interno del paesaggio quindi c'è sempre una distanza ben precisa tra la macchina e il soggetto e quindi tutti questi fattori rendono il tutto molto statico va bene molto ordinato ma secondo me è molto funzionale per carità cioè funzionale proprio a racconto perché effettivamente così almeno mi fai capire effettivamente che se le persone si muovono poi magari non riesci a leggere bene le distanze quindi non è che era un no 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 lo so lo so a me appunto a me piacciono molto queste foto ordinate se vogliamo anche un pochino noiose però questa noia questa ridondanza enfatizza questo questo concetto molto molto chiaro quindi è chiaro che qui la quello che quello che quello che quello che che cerco di far funzionare la ridondanza di queste immagini quindi la ripetizione data dalla distanza e dall'altezza quindi cerco di rendere questa posizione sempre sempre la stessa per enfatizzare appunto questo concetto di stasi e di distanza tra i vari soggetti chiaramente a volte cioè spesso escludo quelle scene dove dove questo ordine non c'è perché non c'è nella strada ordine o perché perché non posso mettere la macchina dove voglio quindi sono sono foto che non farò mai ecco però ormai sono cioè sono sono abbastanza pacifico su questo non so se mi spiego sì sì assente assente un'altra cosa a questo punto scusa fabbrico si sono vai no perché io mi aggaccio vai 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 un'altra curiosità ma per quello all'aperto ha mai pensato di usare un drone proprio a volo d'uccello in modo tale da enfatizzare le geometrie il distanziamento tra le persone sì io diciamo allora diciamo che cerco cerco di fare queste immagini che hanno sì una posizione elevata però almeno oddio forse non in tutte però cerco di diciamo se le faccio vedere a mia mamma queste foto lei non è che si chiede ma come l'ha fatta queste foto cioè non cioè non è che si rende troppo conto del fatto che la macchina cioè di di come il fotografo ha fatto queste immagini è più una secondo me è più una un ragionamento che fa o che può fare una persona che si che ha dentro la materia allora diciamo ma come mai questo sta sempre affacciato a una finestra oppure sta sempre sul tetto di un camion come è possibile no e allora diciamo uno che 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 pratica un po la fotografia si fa delle 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 domande no certo diciamo se tu invece guardi con un drone la strada dall'alto in modo zenitale è un punto di prospettiva di e di vista assolutamente atipico quindi se lo faccio vedere alla mia madre ti dice bene questa foto è fatta da che ne so un elicottero un aereo forse un drone non so se lo dice però è chiaro che è un punto di vista non non praticato non visto queste immagini qua invece cercano di posizionarsi in in un punto di osservazione che abbastanza naturale potrebbe essere abbastanza naturale ecco e quindi non ci si chiede troppo cioè a me non so a me convincono molto quelle immagini dove chi le guarda non si chiede come il fotografo ha fatto quelle immagini ma va a leggere quello che sta succedendo dentro quella foto quindi attraverso la luce la composizione i contrasti colori senza così come nella post produzione nel senso se io penso che se io guardo un'immagine vedo e mi vado a soffermare più sulla post produzione che su su quello che sta succedendo un po forse penso che come fotografo hai un pochino fallito perché hai vinto forse come post produzione come post produttore ma non come fotografo ecco questo è un po il mio punto di vista personale ecco quindi è un po dettata da 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 questo aspetto ma comunque io ho sempre avuto l'idea che fossero naturali non sapevo neanche che avessi usato non mi era manco venuto in mente che potessi avere usato un'asta del scopo io ho dato per scontato che eri andato solo su balconato i punti rialzati perché me ne sono subito sembrati molto naturali sta cosa del camion poi è fantastica poi ce la devi spiegare del camion cioè affitti un camion e ci sali sopra o trovi un camion e chiedi se puoi salire sopra no 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 appunto sono tutte immagini fatte da dove io monto sulla testa di un di un'asta telescopica ci monto la macchina che è una che è una reflex una macchina insomma pesante non è una macchina si porta su un drone dopodiché tiro sulla come se fosse una canna da pesca va bene che ha una grossa base fatta a tre piedi quindi la macchina sta ferma inquadra davanti io tiro su all'altezza che ritengo opportuna rispetto all'ambiente allo spazio al soffitto e a quello che c'è dopodiché guardo la scena dal telefono che è collegato con la macchina e dal telefono poi imposto tutti i vari vari parametri che mi servono per fare lo scatto tranne la messa a fuoco no perché è una letta decentrabile e quindi deve essere deve essere poi in realtà regolata da terra però insomma un'immagine talmente statica che non ha non ha grandi problemi te lo chiedevo perché io invece non ho rispetto della mia macchina e più di una volta sono salito sul tetto della mia macchina ho parcheggiato apposta e mi sono mi sono messo in piedi sulla macchina però vabbè no no ma sicuramente quella è il punto di vista elevato per per me è sempre stato una insomma una parte abbastanza importante della fotografia quindi poi con gli anni ho sempre cercato di capire qual era il modo giusto per arrivare un pochino più alti spesso è una finestra un tetto di un camion di una macchina quello che è a volte se non hai la possibilità può essere un palo telescopico c'è un progetto c'è un c'è un fotografo molto bravo inglese che forse voi conoscerete che si chiama simon roberts che per me insomma siamo pensati uno dei grandi maestri non insomma è un fotografo che ci avrà insomma qualche anno più di me che ha fatto dei progetti bellissimi anche quelli tutti in inghilterra lui è un fotografo inglese e e appunto che lavora in banco ottico quindi con una macchina molto pesante che sta su un cavalletto e quindi anche lì sono delle immagini con una formalità abbastanza chiara e lui ha fatto tutto un progetto molto lungo in inghilterra facendo queste immagini dal tetto del camper suo con cui ha girato tutto poi l'inghilterra è andato a vedere sicuramente io voglio farti un'altra domanda sempre a livello fotografico scusa ti stiamo martellando sì 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 allora ho notato su quasi tutte le tue foto che c'è comunque un sempre penso che sia una tua proprio chiave di lettura una tua firma sempre comunque una luce molto eh omogenea e c'è quindi anche anche in questo caso pur stando sotto per esempio un portico si vede la differenza da dove è illuminato e dove c'è alla fine della strada e dentro non c'è questa grande non c'è questo grande contrasto e in molti casi anche in luoghi all'aperto come ad esempio prima quando avevamo detto ho visto quelle persone facevano yoga e c'è c'è una assenza completa di ombre cioè tu scatti solo quando c'è la luce così o oppure insomma no è chiaro è una scelta una scelta una scelta di luce e quindi sugli esterni sì cerco di fare delle immagini dove non dove non c'è il sole a picco dove non c'è il sole diretto spesso ci sono un po pochino nuvoloso e rende rende tutto il paesaggio estremamente più morbido c'è questa luce un pochino più questi colori un pochino più pastello un pochino più rarefatti infatti quando all'inizio hai detto che ti rifai molto a una scuola un po più nordica è proprio questa la luce sicuramente è una luce non mediterranea che chiede chiaramente sì no mi piace tanto perché secondo me anche questa cosa qua ti volevo dire è molto funzionale al tuo linguaggio proprio che usi perché non è che te lo devo dire io però io ho avuto la netta impressione ecco guarda qua la luce non ce n'è ordine perfetto tutto ordinato persino i motorini sono messi sono messi bene quindi c'è c'è ordine e e e quello che mi stupisce infatti di questo lavoro è proprio e c'è come la foto renda perfettamente in ogni in ogni aspetto il messaggio che vuoi dare quindi a me è arrivato in una maniera molto molto diretta oltre ad essere un messaggio che mi interessa dico anche visivamente mi ha colpito tantissimo infatti complimenti perché veramente grazie grazie sì no sicuramente sugli esterni cerco infatti mi ricordo i primi giorni di maggio scusate di di marzo quando quando iniziò il lockdown non so se vi ricordate ma c'era ci fu una sequela di di settimane con un solo incredibile che si doveva stare in casa sì sì e ero disperato perché non non potevo uscire a fare le foto che avevo bisogno quindi uscivo quando c'era un pochino di un pochino di velatura un pochino di un pochino di nuvole che mi che mi levano questi contrasti molto forti ci sono state fotografie che hai progettato di fare ma non sei riuscito a fare per motivi non lo so che non ti sono state concesse nel senso non ho avuto l'autorizzazione per farle oppure il tempo non te l'ha permesso però magari tu volevi scattare una determinata foto sì c'erano alcune foto sì un po più quelle quelle legate agli alla richiesta di accessi chiaramente che è uno dei uno degli altri temi un po del mio del mio del mio lavoro non non tanto in questo caso un pochino sì ma non tantissimo nel senso che chiaramente per fotografare un'assemblea di condominio devi chiamare l'amministratore questa per esempio un'assemblea di condominio no e quindi c'è un pochino di richiesta di accessi però sono facilmente risolvibili in altri progetti per esempio sull'ultimo libro che ho fatto si chiama workforce c'è una ci sono tante aziende dove sono entrato dentro insomma una serie di di problemi di accesso da risolvere no e c'era una foto sì che volevo fare che che ho inseguito per mesi io c'ho un po questa questo pallino del dell'inseguire una richiesta di accesso che alla fine eh li prendo per un po' più sfinimento perché continuo cioè dopo due mesi allora continuo allora allora che ne ha pensato che ne pensi e alla fine mi fanno entrare un po' più sfinimento penso perché eh se no non ci sarebbe altro motivo eh e invece questo preside c'era una scuola qua a Firenze ehm che aveva allestito una terza media dentro il foyer di un di un teatro eh un teatro molto famoso a Firenze si chiama Teatro Verdi ehm il teatro era chiuso la scuola aveva bisogno di spazi e quindi eh chiede eh chiede al teatro no scusate era il teatro della Pergola eh di 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 dargli il foyer quindi voi immaginatevi una classe terza media in un foyer della cioè per per me era perfetto quindi ho inseguito per mesi eh e lui diceva sì sì io ti faccio entrare bisogna sentire bisogna fare lui probabilmente giustamente aveva avuto anche suoi le sue beghe da risolvere a scuola però alla fine non ce l'ho fatta a un certo punto mi disse no guarda non posso mi spiace e vabbè no peccato ti mettevi in balconata era perfetto ce l'avevi c'ha avuto pure il punto rialzato mannaccia sono sono sempre foto migliori quelle che non riesci a fare però insomma è un po' così fa parte del gioco beh migliore migliore di questa serie insomma vabbè è opinabile perché ne hai fatte veramente di belle pure guarda questa è il tributo dell'ordine cioè ci fosse un libro fuori posto oltre alle persone ma è bellissimo sì questa è la biblioteca nazionale e qua per esempio ci sarebbe una sala e qua all'interno della biblioteca nazionale ci sono al momento credo sia chiusa però ci sono tre sale abbastanza piccole tipo questa dove diciamo a me diciamo sugli interni mi piace cercare gli spazi molto ampi dove dove più più ampio lo spazio e più più la distanza si percepisce la foto diventa più luminosa diventa più aperta c'è una c'è una sala lettura stupenda che purtroppo è chiusa perché non è mai stata riaperta e probabilmente quando 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 riaprirà mi andrò insomma ritornerò a bussare alla porta perché sicuramente l'immagine da fare beh anche perché insomma questo lavoro c'ha tante perché poi dipende dal tuo essere dalla tua voglia però ha veramente ancora tanto da raccontare per come la vedo sì sì potrei andare avanti tanto sicuramente ora obiettivamente all'inizio ero un pochino più entusiasta adesso si tratta di avere costanza e perseveranza che poi è una delle qualità secondo me indispensabile poter poi arrivare ad un progetto approfondito e significativo chiaramente all'inizio insomma non voglio dire che insomma nella fase dell'innamoramento siamo tutti eccitatissimi quindi certamente è sempre molto più facile poi dopo a lungo andare insomma secondo me vincono i più non i più bravi ma è quelli che sono più costanti e perseveranti sì beh anche perché insomma hai fatto la serie è molto lunga però magari c'è ancora qualche qualche spunto qualche occasione che si deve ancora presentare in futuro che dovrai riprendere tipo per esempio le persone che vanno a teatro quando riapriranno i teatri certo sì 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 adesso per esempio guardando queste immagini guardavo oggi ieri è cominciato il ramadam che è appunto una festa islamica molto importante che finisce esattamente tra un mese immagino che la preghiera finale che sarà il 12 maggio credo che la che la organizzeranno non non in questo parchetto qua ma in un luogo molto più ampio con molte più persone dovranno fare una cosa fatta bene penso sarà sicuramente un altro un'altra cosa che potrei fare comunque lasciami lasciami spendere una parola su questa foto mannaggia la miseria proprio bella cioè non solo sono tutti quanti ordinati ma che tu hai messo quel gioco lì al centro è il giochino messo sto guarda anche perché vedo che c'erano molte più persone sul lato sinistro della foto sarebbe stato molto più facile andare là prendere il tappeto di persone belle precise ma quel gioco l'ha messo trasversale no ma il contesto è perfetto sì è veramente una bomba questa foto cioè mi piace veramente tanto guarda ti ringrazio ti ringrazio sì sì no sicuramente quel parchetto gioco decontestualizza cioè non capisci più che cosa sta succedendo se è una preghiera se è un sono sono appunto sono quelle immagini che si hanno hanno una forza sì sicuramente più 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 di tante altre tempo fa abbiamo parlato con intervistato scusa marco pinna che foto editor del national geographic italia e anche diciamo indirettamente uscito fuori il discorso del del della pandemia progetti fotografici eh attinenti può essere uno sprono non che tu abbia bisogno di uno sprono però dico il fatto che progetti del genere ce ne sono pochi progetti del genere fatti anche bene in questo modo perché si vedono tantissime foto come giustamente stiamo parlando con con marco eh dentro casa eh più del come posso dire il fatto dell'isolamento quasi eh del del singolo o di pochi progetti del genere in effetti non non ce ne stanno eh tanti quanto questi altri cioè diciamo al soprattutto all'inizio io ho visto una miriade di foto eh di esterni sul distanziamento eh soprattutto più più legata alla cronaca a quello che stava succedendo a quello che stava accadendo alle varie code non so se vi ricordate eh diciamo un pochino diciamo la secondo me la produzione fotografica soprattutto all'inizio della pandemia è andata su su tre filoni principali credo uno è stato quello del degli esterni vuoti esterni piazze vuote eh allora ti fanno vedere Venezia vuota Firenze vuota Roma vuota eh incredibile ehm poi c'è stata tutta quella parte invece della della fotografia più intimista più ehm più romantica più eh più solitaria appunto degli interni dove ehm dove spesso il fotografo raccontava se stesso la sua vita o quella della sua fidanzata dei suoi figli di quello che stava succedendo ehm oppure viceversa in alcuni pochi casi però c'è stato anche chi ha fotografato quello che stava succedendo negli ospedali e quindi la cronaca di quello che stava accadendo in quel momento ecco secondo me all'inizio c'è stata un po' questa questa eh triplice eh visione se possiamo boh da mio basso punto di vista se posso cercare di analizzarla così ehm ci sono state all'inizio tante anche altre foto invece insieme insieme agli spazi vuoti e abbandonati eh tanti fotografi che hanno eh fotografato le code del della gente che stava al supermercato poi dopo eh molti di loro si sono fermati e obiettivamente continuare a fotografare la normalità eh per un fotografo è molto complicato perché tendenzialmente non si fanno cose a foto normali perché la normalità è noiosa e quindi è una cosa che eh è più complicata da fotografare per renderla interessante dico certo appunto dicevo questo questo progetto va proprio a a raccontare eh quello che paradossalmente tutto il mondo no tutto il mondo magari esaggia insomma però tanti non sono riusciti non sono riusciti a fare perché come come stiamo dicendo adesso chi magari si è concentrato più sull'aspetto ecco più intimo eh dei suoi cari oppure cioè singolarmente come hai fatto un progetto del genere e insomma balza subito agli occhi il fatto che è un non dico una mosca bianca però un'ottima cosa tipo una foto del genere si vede per esempio c'è stato un progetto sulla dad c'è stato un progetto però una foto del genere non che io sia il 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 cultore fotografo insomma io non l'ho mai vista la 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 sì qua eh io appunto questo mio amico all'altra parte estremamente interessante scusa che sì 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 no no io ho questo questo amico che che fa l'insegnante e che insegna eh insegna in questa scuola qua ora non è lui è un altro ehm sì che sì che gli stavo chiedendo ma te che fai stai a casa fai fai la dad a casa lui mi ha detto no guarda io vado 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 a scuola insegna ma perché vai a scuola un po' non puoi farlo a casa no sai perché dice a scuola ehm a parte eh sto sto più sto più concentrato dopodiché ho anche una una sorta di 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 lavagna luminosa dove io eh scrivo ehm e loro mi e loro mi seguono soprattutto perché gli insegnanti fanno matematica hanno tutte le varie espressioni scrivono questa lavagna e gli studenti lo vedono di là io ho detto ma com'è com'è la scuola vuota le metto eh sai a volte ci sono le sedi sui banchi ecco ecco per esempio questo è un insegnante che sta che sta facendo le sedi sui banchi eh no appunto le sedi le sedi sui banchi e dice come le sedi sui banchi lui cioè insegna in una classe con le sedi sui banchi mi sembrava una scena apocalittica anche quella quindi a quel punto mi sono messo a tartassare i presidi finché non mi ha fatto entrare lei appunto eh sta sta facendo un'espressione una insomma una eh una formula matematica su una lavagna che gli studenti vedono vedono da casa e quindi giustamente lei veniva in classe anche se gli studenti non c'erano e comunque e comunque hai ragione quando hai dividi le foto in questi gruppi qua perché sempre ritornando a quello che ci ha detto Marco Pina anche lui sono arrivate tonnellate di questi progetti e lui stesso lamentava no c'è poca originità non mi arrivano non mi arriva niente di originale e anche lui aveva identificato proprio come te questi filoni qua che sì la prima volta sono interessanti la seconda forse alla terza non più la terza si è già vista sì quindi l'hai come dire l'hai incasillato esattamente come l'ha fatto lui quindi non credo che ci sia andato tanto lontano se i suoi due hanno nella stessa direzione sì sì e poi appunto ci sono una serie di immagini che cercano un po' anche di raccontare la eh l'evolversi del tempo e quindi delle festività mi servivano un'immagine eh del del Natale del dello shopping obiettivamente molto complicata da fare in strada perché non so non so da voi vado a Roma immagino giù di lì eh distanziamenti non c'è non ce n'erano per le strade quindi era un pochino eh anche lì si tratta di hanno dovuto proprio chiudere alcune strade del corso in Roma è stata addirittura chiusa perché era troppo piena quindi no ma a parte quello se a Roma un vigile vedi che soltanto hai l'intenzione di mettere un cavalletto per terra ti ti dice che non lo puoi fare quindi eh sì quindi insomma immagino anche qua la difficoltà diamoci l'asta telescopica è quello che non potresti mai fare perché come metti un cavalletto per fare diciamo una foto una lunga esposizione quindi senza senza dare troppo nell'occhio niente dicono che non lo puoi fare insomma sì sì anche a Firenze tendenzialmente lo fanno dopodiché si tratta di sfinisci pure i vigili dai sì sfinisco pure lo risultato è questo chi se ne importa fai bene non ti vogliamo sequestrare per troppo tempo però vorrei fare un'altra domanda Simo non so se te vai 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 a me fa piacere ok e lo stato d'animo perché sono una persona abbastanza empatica lo stato d'animo che che diciamo hai avuto durante questo 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 periodo di fotografia insomma come posso dire hai guardato con diciamo un occhio critico hai guardato cioè l'hai fatto distaccato come come è dunque le prime le prime foto che sono come come questa qua che state state vedendo sono questa secondo me anche in particolar modo ma è una foto abbastanza forte perché nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di ritrovarsi in questa coda quando diciamo io io all'inizio proprio i primi giorni c'è una specie di sì insomma un'applicazione almeno qua a firenze dove ti facevano vedere in tempo reale si si chiamava un coda supermercato coda insomma ti potevi andarti a vedere quante persone erano in coda al supermercato va bene prima prima di entrare dentro quindi io mi andavo a cercare quelle dove c'era più gente fuori in coda chiaramente non non quelle che c'erano questo è un grosso centro commerciale alla periferia di firenze e quando arrivo lì vedo questa scena apocalittica perché c'erano appunto centinaia di persone in coda e non so bene che cosa fare perché sono sono dentro il parcheggio della copp e attenzialmente non posso fare una foto dentro la copp senza chiedere permesso alla copp perché che sei in casa loro devi chiedere appunto devo poi devo tirare sull'asta e tutto quanto dopodiché c'è queste persone in coda che non so come la prenderanno perché insomma alcuni obiettivamente cioè non hanno magari non avevano piacere a farsi vedere lì chi ne so certo è comprensibile no però ecco se io vado dentro chiedo di parlare con il direttore il direttore passa l'ufficio stampa e tutto quanto passa almeno un'ora io sono sono andato esattamente quando il sole quando il sole è andato dietro insomma c'era la luce giusta andava fatta questa foto per cui arrivo lì in fretta e furia tiro su faccio un paio di scatti tempo due minuti arriva la guardia cosa fa sono un fotografo bisogna chiedere il permesso va bene allora si chiede il permesso e poi la luce però l'avevi già fatta la foto la foto la foto era era già stata la faccia e poi chiedo il permesso dopo sì la foto in questo caso era già stata fatta dopodiché io parlo all'ufficio stampa l'ufficio stampa dice sì va bene farla torna quando vuoi sono tornato anche il giorno dopo a cercare di farla in modo un po più con calma però non c'era più la luce giusta mi sono tenuto questa però diciamo in questo in questi momenti qua insomma un pochino di emozione ce l'avevo nel fare queste foto un po perché insomma mi sembrava di fare qualcosa abbastanza straordinario a casa mia e non sapevo bene come le persone l'avrebbero presa devo dire quasi nessuno ha mai detto niente un po' perché forse si sentivano comunque anche parte di un qualcosa che era straordinario che era straordinario che coinvolgeva tutti anche me stesso quindi questa qui è una delle prime giusto questa sì sì sarà stato il 15 20 marzo giù di lì prova l'inizio sì sì un po spaisato insomma quindi emozionato sì non pensa cioè questo questo è il parcheggio della coppa in genere qua ci sono le macchine non ti immagini che non ci sono più le macchine ci sono ci sono ci sono le code ognuno sta a distanza le strisce come una strisce cioè è emozionante a tra virgolette emozionante non in senso bello andare a fare la spesa e vivere quella cosa figuriamoci tu a riprenderla certo certo così faceva strano a noi sì wow wow e poi sì poi sono sono cominciare a riaprire le chiese quindi ho cercato la chiesa giusta per fare un'immagine un'immagine pulita e questa permette mi di una difficoltà clamorosa perché trovare la luce para piatta così in chiesa io non so come fai cioè tutte le chiese di roma io non ho vista una che c'è questa luce no impossibile sì o forse forse qua perché avevano aperto tutte le finestre tutte le porte per fare entrare l'aria ancora di più una realtà questa foto anche solo per la luce sì 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 e poi ci sono state le messe all'aperto e quindi anche quella parte era molto divertente perché questa anche una è una delle delle primissime immagini in un altro centro commerciale che c'è qua a Firenze e l'esse lunga mi sa sì è sì lunga c'è scritto un po' dappertutto sì eh sì cioè tipo sì Michele allora dato che ti siamo ti abbiamo requisito per quasi un'ora vorrei innanzitutto eh ricordare a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo che comunque ci sarà tutti i link in descrizione per vedere questo e non solo questo il lavoro di Michele perché ne ha fatti che rende molti altri molti altri interessanti e sono sono tutti quanti contenuti nel sito di terra project che è il collettivo che di cui fai parte e che hai fondato giusto esatto e quindi innanzitutto metteremo tutti i link in descrizione però la domanda che facciamo sempre a tutti quanti non solo eh sapete dove seguire adesso Michele e quali sono prossimi progetti al di là del continuare questo chi ti vuole seguire come noi che già lo facciamo dunque adesso sto facendo sto facendo un progetto ehm che doveva cominciare dove essere già finito per un diciamo un premio che ho vinto si chiama premio Gabriele Basilico è stato dato un premio alla memoria del grande fotografo milanese quindi qualcosa di architettonico è qualcosa che ha a che fare molto con il paesaggio l'architettura in una il progetto diciamo lo 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 finirò adesso a giugno ehm racconta un paesaggio industriale nel nord della Francia eh nord par des calais e le relazioni sociali e politiche che ci sono in questo paesaggio deindustrializzato detto in tre parole ecco ehm sarà sarà esposto a Milano a settembre alla Fondazione Ordine degli Architetti di Milano e e allora sei preallertato e allora sei preallertato perché tanto ti romperemo le scatole di nuovo sicuramente va bene grazie invece al di là del di internet cioè diciamo scusa del web in cui sei si trovano i tuoi i tuoi lavori su Terra Project sei attivo sui social Instagram? Sì sì c'ho un c'ho un profilo Instagram Michele Borzoni perfetto la metteremo tutti i link in descrizione esatto bravissimi cerco di curare un po' ok Michele ti ringraziamo tanto e la bocca al lupo per i per i progetti futuri e continueremo a seguirti grazie a voi è stato un piacere ciao 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 buon appetito ciao